12 categorie, decine di sfidanti, tanti momenti di pura emozione. E' il riassunto della gara di speed down organizzata dallo storico club Labiroccia di Cuveglio, attivo dal 1974. Al centro della scena e della pista, nell'ultima tappa del campionato sociale, lungo i 2,5 km che portano in discesa, a pendenza media dell'8% da Montigrino-Valtravaglia a Garantola, veicoli senza motore, guidati cioè dal sangue freddo dei piloti. Le riprese raccontano più di mille classifiche, disponibili comunque sulla pagina Facebook del club, immagini che parlano di adrenalina, riflessi pronti e anche tradizione, perché in un mondo sempre più tecnologico, in un panorama motoristico in bilico tra benzina ed elettrico, le biroce tengono il volante dritto sull'unico serbatoio davvero inesauribile, la gravità.